Travolgiamoli! 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 Colpito! Siamo immobilizzati! Abbiamo riparato il cingolo! Possiamo andare! È rimbalzato! Cingolo colpito! Li abbiamo dannezzati! Centrato! Versaglio acquisito! Cambio obiettivo! Li abbiamo danneggiati! Rattato nemico danneggiato! Veicolo nemico distrutto! Veicolo nemico distrutto! Passiamo da la zona app! C'è un cibo? È un cibo che ritrova? Il cibo è un cibo. Un cibo è un cibo! C'è un cibo? No! Siamo immobilizzati! Singolo sistemato, muoversi! Preso! 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 Li abbiamo danneggiati! È rimbalzato! Corattato nemico danneggiato! Corattato nemico distrutto! Preso! L'abbiamo preso! È entrato! Bel colpo! Corazzato nemico distrutto! Cap'l'asso! Grazie.